Buona serata, buon viaggio dalla redazione di Firenze Smart e da Mauro Ciutini. Traffico bloccato sulla A12, siamo tra Massa e Versilia, la direzione è quella per Livorno. Sulla A1 un veicolo fermo tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze. E' sempre in A1, traffico lento per il veicolo fermo tra Sassomarconi e il BVO1 variante di Valico. Passiamo ai treni per la presenza di persone estranei lungo la linea ferroviaria nei pressi di Camaiore. I treni da Pisa alla Spezia subiscono ritardi e variazioni. Il regionale 18374 Firenze alla Spezia viaggia al momento con 15 minuti di ritardo. Infine per la tramvia di Firenze ricordo da lunedì interventi notturni sui sottoservizi all'incrocio tra Via Lavagnini e Via Santa Caterina d'Alessandria. Muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.